Quasi mezzo chilo di hashish e 40 orologi di marca nuovi ancora imballati. È quanto hanno recuperato domenica pomeriggio in un appartamento di via gigante alla Stanga gli uomini della squadra mobile di Padova. L'appartamento era occupato da 5 cittadini nordafricani, i quali all'arrivo dei poliziotti si sono dati alla fuga in vari modi, tentando anche di ostacolare l'irruzione della polizia. La loro attività di spaccio lungo la stessa strada, nella vicina via Manara, era già stata notata dagli agenti. Uno degli stranieri aveva con sé numerosi pezzi di hashish e più di 1000 euro in contanti. Nel seminterrato è stato trovato il magazzino della droga, anche grazie all'unità cinofila della polizia. 8 cilindri di hashish, peso complessivo di oltre 400 grammi. I 40 orologi di diverse marche erano ancora muniti dell'etichetta di vendita. Nell'appartamento c'erano altri 1000 euro in contanti. Tutti gli occupanti sono stati deferiti alla procura per ricettazione. Uno di loro, un 25enne pregiudicato, con un mandato di cattura per reati di droga, è stato condotto in carcere. Dovrà scontare tre anni e otto mesi. Al due palazzi anche un quarantenne con precedenti. Gli altri tre stranieri sono stati messi a disposizione dell'ufficio immigrazione.